Ben ritrovati, questo è il video sul contenuto del mio organizer, quello che abitualmente tengo in borsa e che contiene la mia agenda e altre cose così di uso quotidiano, ma veloci. La caratteristica è questo organizer che ha molte tasche. Vediamo insieme cosa porto abitualmente, due penne, queste sono due penne in gel, vi ho fatto un video sulle penne, lo trovate nel mio canale, qui ci sono due tasche abbastanza capienti, ci sono due salviettine che ho preso in un fast food per pulire le mani, un gel orale, questo serve per il mio reflusso, una bustina di, no una bustina, una piastrina di vape, perché sono alle zanzare, quindi in ufficio abitualmente mi attacco il fornelletto nel smolto nelle regalde, anche perché intorno all'ufficio c'è molto verde, una bustina di camomilla, perché un'altra mi trovavo in Spagna, non so come si chiamava la camomilla, sono stati due ore a capire, al fine abbiamo, da quel giorno me la porto dietro, una salviettina per pulire gli occhiali, queste salviettine a sorbisebo della Muji, sono molto pratiche e comode, qui c'è una mascherina per gli occhi per dormire, una piccola pochettina, veramente minuscola, che contiene due cerotti e questi cotton fioc, che contiene il mio profumo abituale, il mio rossetto abituale di MAC, qui che c'è, ah, qui ho il mio pottino, con il, che contiene della polvere di caffè, che utilizzo perché abitualmente entro in profumeria, come vedo una profumeria e posso entrare, vado ad usare profumi e a spruzzarmi, insomma, il naso si sensibilizza e quindi non si capisce più niente se non hai un po' di caffè, il, un piccolo portafoglio della coach, questo è molto stretto e entra facilmente, quindi è facile da inserire in questo organizer, il, dunque vediamo un po', la mia agenda Filofax croc, vi ho fatto un video a riguardo, e per ultimo la taschina, quella, sono con una mano sola, quindi ho molte difficoltà, questa contiene, la tasca, quella davanti, che è molto capiente, uno specchio, questa è di Sephora, uno specchietto da borsetta, un pettine, vediamo cosa c'è, c'è una pinza per capelli e un, un elastico, un altro elastico, e ho finito, si, finito, questo è il contenuto del mio organizer, vi saluto, grazie per essere passati, alla prossima!